Quale gestore di energia elettrica conviene? Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi voglio parlarti di un gestore dell'energia elettrica. Ne ho girati tanti e a casa, alla fine, ho deciso di scegliere Sorgenia. Prima di cominciare ti faccio una premessa, alla fine di questo video otterrai un grande bonus per avere Sorgenia a casa. Se vuoi sapere la motivazione per la quale ho cambiato così tanti gestori dell'energia elettrica, tra pochi istanti te lo spiegherò, quindi resta con me sino alla fine. Quando ho scelto di sottoscrivere il mio contratto con Sorgenia, mi sono chiesto se questo poteva essere il gestore che faceva per me. Per questo motivo ho letto dettagliatamente tutto il contratto e mi sono reso conto che è veramente il migliore sul mercato. Punto numero uno a suo favore. Come cliente Sorgenia avrai a disposizione un'applicazione che ti consente di controllare i consumi mese dopo mese e sono dei consumi effettivi. Il secondo punto a suo favore sono i prezzi, perché i prezzi di Sorgenia, oltre ad essere dei prezzi green, ovvero l'energia è un'energia verde che è ricavata dai pannelli solari, sono anche i migliori prezzi sul mercato. Terzo punto a favore di Sorgenia è l'assistenza ai clienti. Innanzitutto non avrai bisogno spesso di telefonare, ma qualora tu ne avessi la necessità, il loro servizio di assistenza ai clienti è molto preciso e molto dettagliato. Le tue richieste saranno evase in maniera molto rapida. Ultimo punto a suo favore non previsto è la possibilità di mantenere lo stesso prezzo nel tempo senza subire delle alterazioni, anche restando nel mercato libero dell'energia. Insomma, come hai potuto ben capire, questo gestore dell'energia elettrica, di cui stiamo parlando in questo video, è molto 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 efficace, veritiero ed efficiente. Come ti ho promesso all'inizio di questo video, voglio lasciarti il mio bonus. Infatti, qua sotto in descrizione, trovi il mio codice che ti consentirà di ottenere 30 euro di sconto per ogni contratto che attiverai, dilazionato in 12 mesi. Considera che se oltre ad attivare l'energia, attiverai anche il gas, otterrai altri 30 euro di sconto dilazionati per 12 mesi. Sono poco più di 2 euro e qualcosa al mese, 2,50 euro al mese, per un anno. Quando io ho sottoscritto la mia fornitura dell'energia a casa, sono andato alla ricerca di un gestore online e la persona che mi ha spiegato che questo gestore era un ottimo gestore, ma ha lasciato molto gentilmente il suo codice e io ne sto ancora usufruendo. Ormai è tempo che non corro più dietro gli sconti e dietro le promozioni, però risparmiare ogni tanto non fa male. Quindi qua sotto se ti va, trovi il mio codice, lo puoi utilizzare e puoi attivare la tua energia sin da subito. Bene, spero che queste informazioni siano state di tuo gradimento, spero che tu avrai accettato volentieri il mio bonus e spero di averti dato dei consigli validi perché siamo nel 2020 e più precisamente nel mese di luglio. E ancora adesso i loro prezzi sono i migliori sul mercato. Con questo è tutto, io ti saluto, ti aspetto nel prossimo video e mi raccomando iscriviti al canale, se lo fai sei un grande, se non lo fai va bene lo stesso. Alla prossima!